bene ragazzi ciao amici di Fisherland e benvenuti a un nuovo video allora oggi tocchiamo un argomento abbastanza delicato voglio parlarvi di della manutenzione ordinaria manutenzione ordinaria che tutti noi possiamo fare sui mulinelli sia fissi che rotanti attenzione non vi voglio far vedere come si apre completamente un mulinello e come lo si richiude ve lo posso anche fare vedere in un altro video però vi consiglio comunque questo lo dico subito di non smontare completamente un mulinello se non siete super sicuri di essere in grado di rimontarlo perché altrimenti succede questo questo che vedete qua dentro è un simpatico mulinello che costa circa 200 euro un cliente in tutta buona fede per carità ma ce ne sono tanti gli è caduto in mare l'ha recuperato ha provato a smontarlo ha smontato una vite un'altra vite un'altra vite poi ci a noi ci piace no a noi momenti ci piace un po smacchinettare con il cacciavite no con queste cose qua alla fine della favola ha smontato tutto ok una volta che ha smontato tutto si è reso conto che poi all'interno non c'era nessun tipo di problema perché bastava soltanto prenderlo aprire nel modo giusto darci una sciacquata una lubrificata e camminare non è più stato in grado di rimontarlo e quindi me l'ha portato adesso il problema è rimontare questo mulinello perché non abbiamo nello schema non abbiamo più i pezzi di ricambio della ditta che lo produce e quindi diventa un po un casino quindi io vi consiglio di non smontarlo perché questo era un mulinello che magari poteva durare altri dieci anni senza nessun problema questo l'ho portato come monito ok quindi il secchiellino col mulinello è una cosa che per noi anche se ci lavoriamo diventa un pochettino complicata anche se adesso vedremo di metterlo a posto detto questo comunque ognuno di noi può fare la propria piccola manutenzione perché ci sbagliamo andiamo a pescare abbiamo la nostra bella canna nuova giustamente il nostro mulinello che a fatica ci siamo riusciti a comprare e vogliamo tenerlo il meglio possibile no quindi arriviamo nella doccia ci facciamo prima di farci la doccia noi facciamo la doccia alla canna mulinello e chantecler e detersivi tutto quello che vuoi allora consiglio numero uno il mulinello è un oggetto che può essere resistente all'acqua ma molto 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 difficilmente è completamente impermeabile che sia impermeabile in tutte le sue parti assolutamente no detto questo meno acqua vede e meglio è vero che un mulinello usato in acqua dolce rispetto a un mulinello usato in acqua salata ha meno problemi e quindi ha bisogno di meno manutenzione il mulinello usato in acqua salata ha bisogno di una manutenzione un pochettino di più perché il sale ragazzi corrode tutto quindi anche se comprate un moretan della daiva anche se comprate un super stellone della della shimano sappiate che il sale corrode tutto io lavoro con ambedue le ditte faccio manutenzione di mulinelli ho visto degli stelle in condizioni veramente disastrose dei dai va in condizioni altrettanto disastrose e abbiamo fatto fatica a volte a trovare dei ricambi e qua ci sarebbe da fare poi tutto un discorso che non entro nel merito perché sennò poi andiamo a scontrarci anche con alcune aziende però quindi ecco per questo per testimonianza 800 euro di mulinello non è detto che è esente dal 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 essere toccato dal sale o dalla ruggine ecco questo va detto e dovete capirlo bene ci sono alcune cose come vi dicevo che possono essere fatte per mantenere bene il nostro oggetto io ho fatto un po di tempo fa un video dove facevo vedere come si sostituiva la cima su una canna telescopica come si legava un anello che sono piccoli tutorial che possono venire bene perché ognuno di noi magari si può arrangiare non nel caso di emergenza stesso discorso sui mulinelli vengo subito al dunque non entro ragazzi troppo nello specifico perché sennò ci sarebbe stare qua delle giornate e vi voglio fare vedere spero che poi si veda anche un mulinello che ho appena smontato l'ho smontato ieri per farvi vedere che a volte non tutto quello che si vede poi è un casino ecco adesso arrivo al punto allora i prodotti allora prodotti ci sono sul mercato tantissimi no diciamo che schematizzando abbiamo bisogno per fare un po di manutenzione nel caso in cui un mulinello fosse ci avesse preso la mano nel senso che ipotizziamo che abbiamo un guida filo bloccato quindi dove passa il filo un manopolino bloccato perché non gira più o perché magari il mulinello ha leggermente una durezza nel movimento abbiamo bisogno di alcune cose abbiamo bisogno di uno sbloccante quindi dobbiamo utilizzare uno sbloccante può essere un vd 40 può essere un crc marino qualcosa che sblocca assolutamente attenzione però perché se andiamo a utilizzare un prodotto del genere dobbiamo dopo averlo sbloccato per bene dopo averlo pulito per bene dobbiamo andare a lubrificare perché molti sbloccanti anzi quasi tutti non hanno un agente lubrificante all'interno e anche qualora ci fosse scritto che anche lubrifica se vi date retta lasciate stare e comprate poi un lubrificante i due lubrificanti più utilizzati nei mulinelli sono il classico silicone che è questo qua che è un grasso al silicone che assolutamente non va in questo caso questo è della stonfo perché è comodo fa la scatolina un costancazzo però è comodo comodo il grasso riempie un po quelle che sono le lacune che si possono essere create nel tempo fra un ingranaggio e l'altro quindi da una sensazione sicuramente più di pastosità e fa bene il suo lavoro e attenzione che il grasso però resiste meno all'acqua cioè con l'acqua adesso come posso farvi spiegare come posso spiegarmi semplicemente tende un po a separarsi da quello che deve lubrificare quindi nel caso in cui voi non vogliate usare un grasso cosa che io uso ormai veramente poco se non in alcuni casi su un cuscinetto vecchio che magari fa rumore allora si mette un pochettino di grasso per renderlo meno rumoroso utilizzo molto volentieri un olio da armi olio da armi perché perché io li conosco molto bene per altri motivi gli oli da armi sono degli oli che hanno delle caratteristiche assolutamente poco attaccanti diciamo che aggrediscono poco tutte le parti plastiche eventualmente o materiali che non siano di metallo all'interno del mulinello quindi non vanno assolutamente a dar fastidio e lubrificano e soprattutto l'olio in questo caso spray liquido entra ovunque senza dover aprire per forza tutto il mulinello ecco questo è il motivo giusto funzionano molto bene addirittura addirittura io uso quello della crc però c'è anche l'olio beretta che praticamente la stessa musica però il crc veniva veniva consigliato nel bugiardino di istruzione dei mulinelli shimano come voi sapete alcuni mulinelli shimano nella gamma medio alta aveva dentro un boccettino di liquido trasparente che era un olio liquido perché alcuni mulinelli hanno provvisti di vite per poterlo mettere dentro per poter fare le proprie manutenzioni beh quell'olio quel liquidino che c'era era crc gun quindi crc da armi esattamente quello che poi comprate nelle bombolette lo comprate in qualsiasi supermercato attrezzato o un ferramenta veniamo subito al discorso allora un mulinello quando lo abbiamo utilizzato ma non tutte le volte è una volta ogni tanto se dovesse succedere che prendono un data di acqua salata o dovesse caderci in qualche in qualche modo per terra e si sporca magari di sabbia possiamo manutenerlo in questo modo andiamo a smontare la farfalla della bobina in questo modo qua così andiamo a togliere la nostra bobina come vedete sull'archetto di questo mulinello ok sull'alberino scusate di questo mulinello ci sono un sacco di robine interessanti da smontare non smontatele però che sono il cuscinetto che tiene la bobina ferma sulla rotazione della frizione abbiamo diversi rasamenti abbiamo la cicalina e come vedete vi ho fatto vedere questo apposta perché poi vi dico qua c'è un po di grasso vedete che qua c'è un po di grasso bianco questo è grasso bianco che serve solitamente solamente per dare una mano a questo mulinello questo è un mulinello della daiva che è provvisto di mag seal ed è che è un'altra cosa per cui questo mulinello che assolutamente non riusciamo ad aprire perché soprattutto sull'alberino ha una guarnizione ve lo posso dire così ad olio magnetizzato quindi se noi lo andiamo aprire l'olio esce non abbiamo lo strumento per poterlo magnetizzare anche se adesso la daiva giustamente sta cercando di trovare dei punti vendita e noi saremo lieti di farlo per cui la manutenzione anche di questi potrà avvenire avendo l'oggetto giusto per rimagnetizzare l'olio all'interno delle guarnizioni apro e chiudo parentesi quindi noi un mulinello semplicissimo facciamo ipotesi che non sia questo che non sia il mag seal ed e possiamo andare a fare questo lavoro andiamo a dare una spruzzatina di olio liquido qua sull'alberino qui su questo punto spruzzatina e poi andiamo avanti indietro un po di volte poi ci rifermiamo con l'alberino in alto altra spruzzatina lo ripetiamo per due o tre volte l'olio è meglio del grasso perché viene assorbito meglio dall'alberino altra cosa che assolutamente si può fare è quello di smontare la manovella del mulinello che in questo caso è a vite ma alcune hanno la controvita dall'altra parte e dobbiamo riuscire ad andare a cedere solitamente sulla cassa del mulinello se non da tutte e due le parti c'è un cuscinetto quindi andiamo a lubrificare anche un goccino qua al cuscinetto cercando di far entrare dentro se il mulinello dovesse avere un attrito maggiore possiamo fare una cosa possiamo andare ad allentare ad allentare senza smontare il diciamo la vite sopra l'alberino che è questo buloncino qua questo dadino qua perché altrimenti poi il mulinello ci rimane in mano andiamo ad allentare leggermente le viti allarghiamo appena appena la cassa facendo attenzione andiamo a mettere dentro un po di olio basta richiudiamo il tutto e vedrete che il vostro mulinello a parte che piscerà un po di olio ogni tanto senza esagerare chiaramente l'olio però sicuramente riprenderà il suo movimento perfetto mi soffermo un secondo sulle cose più delicate sul mulinello chiaramente di questo genere come questo a bobina fissa e le parti che patiscono molto perché è dove praticamente il filo porta l'acqua ok quindi dove passa il filo è il guida filo guida filo qua ragazzi è un cinema qua bisognerebbe star qua a parlare come vi dicevo qua bisognerebbe veramente fare un video sul discorso ricambi aziende eccetera eccetera perché per noi a volte ci sono delle grosse difficoltà io adesso in mano un dive che devo dire che l'assistenza sua la fa assolutamente bene possiamo andare a fare una cosa andiamo a smontare il guida filo attraverso questa vita attenzione che in alcuni mulinelli c'è una brigola una brugola di sicurezza che non permette alla vite di auto allentarsi quindi se non c'è comunque andate ad allentare questo lo andate ad allargare piano piano andate a mettere dentro prima dello sbloccante in modo che il cuscinetto si pulisca bene 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 dopo di che lo asciugate bene andate a lubrificare un paio di volte passate dentro un pezzo di filo magari ci date due giri e poi fate questo lavoro ok quindi ce lo fate andare avanti e indietro vedrete che lo scorifilo inizia a girare se non dovesse girare o se dovesse fare rumore il cuscinetto probabilmente compromesso qualora ci sia e quindi bisognerà andare a sostituirlo ma diciamo che sono pezzi che come vi dicevo prima all'incirca sono sempre disponibili un'altra parte che si può lubrificare anche se non da mai quasi noia è la parte laterale dell'archetto perché gira sia questo che questo quindi possiamo andare da questa parte a dare un goccino di lubrificante qua qua dentro possiamo aprire questo sportellino state attenti perché in alcuni casi le molle saltano fuori quindi andiamo a sperire lo sportellino c'è una molla con un perno che va su e giù che è quello che si sostituisce o si rompe quando l'archetto praticamente rimane fermo quando non ha più la sua molla e possiamo andare a lubrificare anche quello direi che direi che come manutenzione ordinaria concludo dicendo che per quanto riguarda la cassa del mulinello invece di andarci sopra con la canetta con la spingarda per cercare di straccio bagnato con dell'acqua dolce e vi mettete lì e se ci sballate a massaggiare da carezzare il vostro amato mulinello ce lo passate un po da tutte le parti però solo solo con uno straccio bagnato in modo che dentro questo mulinello l'acqua non vada lo faccio adesso l'aceno ieri ho montato ho smontato come vi dicevo prima un mulinello che sembrava completamente bloccato no perché sull'alberino sull'alberino c'era tutta la ruggine che usciva fuori ok quindi tutto in panico cos'è successo mulinello che è caduto in acqua di mare ve lo dico ecco non perché è caduto nell'acqua normale è caduto in acqua di mare è rimasto una settimana due settimane fuori all'aperto all'aria magari nella baracca dove si tengono gli attrezzi quando uno ha finito di pescare in barca e si è bloccato praticamente si è bloccato attenzione non bisogna tirare via tutto bisogna solo come in questo caso smontare l'archetto andare a smontare lo sportellino che è questo qua che ho messo qua dalla parte togliete via il pignoncino che come vedete è perfettamente pulito nel senso che basta darci una lubrificata andiamo a lubrificare tutta la parte interna lasciando questo tutto quello che c'è qua dentro lasciatecelo non state a smontare tutto fate tutto quello che dovete fare lubrificate rimontate il vostro pignoncino all'interno e vi provate il vostro mulinello vedrete che probabilmente la cosa è risolta se non siete in grado lo potete portare in un negozio una manutenzione ordinaria che in qualche giorno è più il tempo che ci vuole a dirlo e a farlo che il lavoro di per sé ok quindi è molto semplice quindi questo volevo far vedere perché a volte vedete della ruggine che salta fuori dall'alberino può anche non essere una cosa così grave come sembra ecco basta fare le cose ben fatte per quanto riguarda invece i mulinelli rotanti gli amanti di voi che hanno la passione della pesca traina dalla barca eccetera eccetera beh qua vi dico che la situazione è un pochettino più particolare perché spiegarvi come lubrificare questo mulinello come ho fatto con questo senza doverlo aprire diventa un problema perché voi dovete sapere che all'interno della bobina c'è un alberino dove ci sono i cuscinetti questo mulinello i cuscinetti ce l'ha all'interno della bobina quindi bisogna per forza andare ad aprire la cassa aprire la cassa vuol dire togliere la leva della frizione come in questo caso che ha leva se non ci fosse la leva della frizione bisogna togliere tutto il gruppo manovella per accedere al meccanismo che è dalla parte della manovella il meccanismo è qua qua dentro non c'è niente da questa parte c'è soltanto il sistema di cicalino che fa rumore ma non è niente qua non andiamo a lubrificare assolutamente niente quasi andiamo a lavorarci quando il cicalino si rovive da questo lato invece c'è tutto il meccanismo quindi tutto l'ingranaggio eccetera eccetera anche qua se non vogliamo proprio andare a smontare tutto cosa che non vi consiglio di fare come vi dicevo prima possiamo andare ad allentare leggermente le viti qualora ce la facessimo aprire leggermente la cassa scoppiarla diciamo da questo metterci dentro dell'olio sempre liquido perché questo penetra un po da tutte le parti si è bloccato uno sgrassante una lavata poi di nuovo olio liquido richiudiamo il tutto se andate a poi a sentire che il mulinello ha dei problemi vi consiglio di portarlo dal negoziante di fiducia o da qualche amico che sicuramente si intende di meccanica e si mette a posto faccio un ultimo cenno ok un ultimo cenno sul discorso guida filo allora il guida filo è la cosa che patisce solitamente di più in un mulinello perché come vi dicevo il filo ci passa sopra e quindi il tutto si bagna no allora sappiate sappiate che questo robo qua dentro ha sullo spaccato del mulinello cioè non c'è una cosa sola che è il rullino che gira su un perno no questo qui ad esempio del dive allo contato primo a sette codici cioè dentro fra la vite e l'archetto che è fisso ci sono sette pezzi diversi fra cui rasamento microscopico boccola tieni cuscinetto spingi cuscinetto eccetera 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 fino ad arrivare alla parte esterna che è il rullino attenzione perché tutto ripeto ha un senso sono cose che sono asimmetriche quindi una rondella è fatta per essere messa in un modo non in un altro quindi se lo dovete andare a smontare vi mettete lì fermi e quando andate a smontare date un senso a tutto in modo da poterlo rimontare ok e quindi attenzione ragazzi perché anche un semplice guida filo che uno dice la cosa più comune che tutti smontano poi non gira e diciamo come mai come mai manca manca un pezzo perché magari rasamento a proposito di un pezzo vi dico una cosa importante nei mulinelli classici nei mulinelli classici adesso qua io non ci ho pensato ma ve lo voglio dire così perché la facciamo così d'amblè nei mulinelli classici normali lasciate stare questo ci sono delle rondelline sull'alberino che vanno a tenere in appoggio la bobina quando noi ce la incappelliamo sopra ok attenzione perché quando andiamo a smontare la bobina per andare a lavare il filo quello chiaramente si può fare assolutamente poi la bobina fatela asciugare non sul calorifero magari e attenzione perché molti di voi non ci fanno caso spesso questo grasso che è qua capita che vada anche un po sulle rondelline io metto la bobina sopra la cosa poi vado a pescare ritorno lavo la bobina smonto la bobina prendo la bobina ok la prendo l'appoggio sul banco attenzione se sulla bobina qua sotto rimane attaccata una due rondelline che erano sull'alberino poi voi la appoggiate sul tavolo quando andate a riprendere le rondelline sotto lì chiaramente non le vede nessuno rimontate la bobina andate a pescare la volta dopo e il mulinello imbobina male o imbobina così o imbobina così perché perché le rondelline sono lo spessore che regolano l'oscillazione della bobina sull'alberino quindi se noi dobbiamo andare a prendere le rondelline e rimettacene dentro non è un problema ma se non lo sappiamo andiamo a pescare troviamo che il mulinello imbobina e dice come mai imbobinava bene ieri oggi imbobina male può essere quello motivo quindi attenzione ragazzi quando smontate la bobina non fatelo da sportivi toglietela guardate che sotto le rondelline non ci siano può essere un rondelline può essere anche un cuscinetto a volte c'è anche un cuscinetto che rimane attaccato alla bobina dovrebbe rimanere qua ma rimane qua quindi quando andate poi appoggiarlo perdete il cuscinetto bisogna ordinarlo e via così vi dicevo un ultimo cenno allora un ultimo cenno come vi dicevo bisognerebbe fare un video appositamente ma poi entriamo poi troppo nel nella polemica d'azienda azienda allora io chiedo da tempo fortemente alle aziende di differenziare quello che è il tempo di garanzia sui mulinelli di gamma diciamo alta nelle macchine nelle automobili ormai siamo abituati ad avere due tipi di garanzie abbiamo non so i due anni tre anni sulla meccanica e abbiamo magari il i dieci anni sulla carrozzeria è giusto che sia così perché perché se io compro un mulinello che costa 800 euro posso capire che ho i due anni di garanzia sulle cose di usura quindi le corone interne l'alberino il cuscinetto del guida filo il guida filo stesso ma se il mulinello viene soggettato e succede a volte da alcune camolature da ossidazione che non sono dovute al salino ma sono dovute non si sa bene a che cosa questi qua sono materiali compositi no e ce ne sono di molti tipi però ci sono alcuni mulinelli di gamma alta è che si trovano baccati si trovano proprio delle ossidazioni particolari sia sul corpo succede succede anche sulle bobine sul fondo delle bobine a volte per una questione di mi dicono correnti galvani che anche se bisognerebbe avere del filo metallico che non c'è comunque delle camolature ecco le aziende dovrebbero differenziare questa cosa quindi dovrebbero dire per essere regolari dovrebbero dire ti do due anni di garanzia sulla meccanica quindi sul materiale di usura anche un anno sul materiale di usura però su oggetti e sul sul corpo del mulinello un mulinello da 800 euro non può durare due anni cioè questo ve lo dico contro assolutamente contro il mio interesse però sono cose che io vado a pescare mi fanno incazzare anche a me perché purtroppo ci sono delle aziende che mi hanno detto queste cose mi hanno riportato queste cose non sono assolutamente d'accordo sappiatelo però purtroppo oltre i due anni di garanzia muro cioè due anni di garanzia niente io ti compro un mulinello così che costa 200 euro fra due anni si disintegra si auto distrugge non esiste non esiste quindi noi lo stiamo chiedendo in modo forte alle aziende speriamo che qualcuno ci ascolti sotto questo punto di vista quindi possiamo anche ridurre sulle parti di consumo di utilizzo di usura e diminuiamo anche i due anni di garanzia ci sta tutto perché se uno va a pescare tutti i giorni con un mulinello si può consumare di più e ci sta che un cuscinetto si consumi di più di un'altra cosa ma assolutamente i corpi e le bobine devono essere adatti a durare nel tempo detto questo quindi qua ci sarebbe da fare un video perché poi qua c'è il discorso delle mulinelli che quando escono di produzione poi non ci sono più ricambi delle cose quindi affidatevi comunque ragazzi sempre a delle aziende serie e informatevi se l'assistenza dell'azienda funziona bene e soprattutto affidatevi a un negoziante di fiducia perché un negoziante di fiducia ha il dovere perlomeno morale di non lasciare a piedi una persona anche se la garanzia di un mulinello è passata noi è successo più di una volta che un'azienda se ne lava le mani ce ne prendiamo carico noi vorrà dire che qualcuno ci darà poi alla fine merito di quello che è stato ma non si può ragionare in questo modo il consumismo ci sta va bene ma tutte queste cose poi tutte queste aziende che stanno meccanizzando le cose niente non c'è più nessuno non puoi più parlare con nessuno per sapere se questa farfalla che questo è un saltis no la farfalla di un saltis non c'è più d'accordo c'è un uomo dall'altra parte che mi dica se la farfalla del curo della nomura o di un altro cacchio di mulinello ci vada bene ci sarà ma niente non c'è un uomo che risponde a questo a questi a questi quesiti quindi io mi incazzo sempre di più lasciamo perdere se no qua usciamo fuori e facciamo un off topic come si dice off topic quando si esce fuori bene ragazzi grazie di essermi stati ad ascoltare spero che questo video sia vi sia stato utile diciamo che poi se volete che entro nel dettaglio vi faccio anche un video su come si smonta il mulinello ma la vedo una cosa abbastanza difficile e lunga soprattutto comunque ve lo posso fare faccio quello che dite voi quindi ragazzi io vi saluto continuate a seguire sulle nostre pagine facebook mettete un like al video se vi è piaciuto scrivetevi il nostro canale youtube io vi saluto e come sempre che la pesca sia con voi